Il colonnello Salvatore del Campo, siciliano, da pochi giorni al nuovo comandante provinciale dei Carabinieri dell'Aquila, oggi si è presentato alla stampa. Il colonnello conosceva la provincia per aver fatto delle fasi di addestramento in città durante la sua accademia. Prende il testimone dal colonnello Nicola Mirante, che è ben lavorato, ha detto, conosce bene le problematiche che in questo momento attanagliano la città dell'Aquila, su tutta quella dei minori. Sarà importante continuare a presidiare il territorio, ha detto, soprattutto vogliono entrare nelle parrocchie ma anche nei luoghi dove ci sono i giovani e fondamentale, ha ribadito, sono i presidi dei Carabinieri in tutti i piccoli paesi. Il colonnello continuerà ad operare nel solco di ciò che ha fatto il colonnello Mirante e sa le problematiche che ci sono in questo territorio, soprattutto minori e situazioni particolari in centro. Si continuerà con controlli mirati su quella linea? Assicuramente, in linea di continuità con quanto già fatto dal colonnello Mirante, che ovviamente ringrazio, con grande senso di responsabilità ho assunto lunedì scorso l'incarico di comandante provinciale dei Carabinieri della provincia dell'Aquila e continueremo, quindi assicuro il massimo sforzo da parte dell'Arma dei Carabinieri con tutti i suoi presidi sul territorio ad essere comunque sentinelle attente sul territorio per poter rilevare quelle situazioni che richiedono una particolare attenzione e una maggiore presenza delle nostre pattuglie. In stretta sinergia con le altre forze di polizia sotto la guida del signor prefetto dell'Aquila, svolgeremo e continueremo a svolgere quei servizi in quelle aree particolarmente delicate del territorio dove sono stati segnalati episodi che hanno inciso magari sulla percezione della sicurezza della cittadinanza. Noi lavoreremo in tal senso affinché il cittadino possa sentirsi sempre più sicuro al fine di mantenere da parte nostra i massimi standard di sicurezza.